Ciao a tutti voi, benvenuti all'appuntamento con la nostra vetrina dell'auto. Siamo in compagnia della Fratelli Cozzi. Non vedete accanto a me Roberto Cozzi, perché oggi non c'è, ma c'è un suo valido collaboratore che conosco da tanti anni. Ciao Aurelio! Quasi 20, quasi 20. Se Roberto è in vacanza, quindi mi tocca sostituirlo. E beato lui. Tra poco andremo anche noi. A proposito di questo, hai qualcosa da dirci? Noi ci stiamo già preparando, proprio per questo, per le vacanze. Noi ci tocca aspettare ancora un po' perché andremo via, chiudiamo nei 10 giorni centrali di agosto, ma ci stiamo già preparando. Preparando perché ci siamo già caricati di auto, di auto ma non le auto con i bagagli, perché abbiamo oltre 400 auto in pronta consegna. Abbiamo cercato di mixare, assortire tutto, diciamo, un po' le tipologie di auto, concentrandoci su quelle per la famiglia, quindi per i viaggi, per le vacanze, quindi il più spaziose possibili. E soprattutto affidandoci a uno dei nostri partner, Carvalma, come tutte le nostre aziendali, dove ci permette di dare la garanzia totale europea sulle vetture, quindi in modo da poter partire con tutta la serenità e la tranquillità, sapendo di aver acquistato un prodotto si usato, ma garantito come l'auto nuova. Bene, mi sembra molto, molto importante, soprattutto per la tranquillità, se dovete prendere la vettura e andare in vacanza. Qui c'è, c'è in pronta consegna, ce ne sono tante, ce ne sono di tutte le dimensioni, anche i sette posti per la famiglia. Abbiamo riempito sia le vetrine che i piazzali, la porta nascosta, c'è dal piazzale nuovo esterno, dove c'è un sacco di assortimento. Come sempre, e come quasi tutte le nostre vetture, soprattutto quelle il più fresche e meno chilometrate possibili, si possono acquistare con la formula sempre nuova, che permette l'utilizzo di un canone fisso, certo, senza subire aumenti, visto che qui si continua a parlare e aver paura di aumenti continui, invece si stabilisce un canone fisso con tutto compreso, all inclusive, con tutta la tranquillità e la serenità, senza nessun vincolo, senza un limite chilometrico, e con la possibilità di programmare poi la sostituzione dai due anni a salire, quando cambiano le esigenze e la comunità dei clienti. Certo, all inclusive, poi ce lo spiegheranno appunto i ragazzi, i collaboratori. Valeria e Moira entreranno nello specifio a far vedere un po' di vetture nello specifio e spiegarci tutto quello che sono i principali contenuti della nostra formula sempre nuova. Sì, hai fatto bene a sottolineare senza il limite chilometrico, perché quando si noleggia c'è un limite chilometrico annuale, invece qui è una specie di noleggio, per certi versi, ma in effetti è un finanziamento senza il limite chilometrico. Oltre al risparmio, diciamo che la comodità poi principale è proprio la libertà di utilizzo, ok, la comodità di utilizzo con un costo certo fisso dal quale uno non trova, diciamo sorprese, dover sborsare altri soldi. Ecco, ma una sorpresa invece per chi viene dicendo di averci visto? Allora, bravissima, per raggiungere una sorpresa alle tante auto pronte per cariche per le vacanze, dite di averci visto con la Rosi e potrete partire con la vettura con un bel pieno di carburante, così vi fermate ad un autogrill più lontano. Allora, meglio di così, partite in vacanza con la vettura nuova e anche con il pieno già fatto, insomma, mi sembra veramente importante, perciò dite di aver visto la Rosi per avere il pieno. Io sono la Rosi. Grazie Aurelio e adesso diamo la parola a Moira e Valerio. Buongiorno. Senta, sarei interessato a quella macchina? Prego, veniva. Grazie. Signorina, premetto che pago tutto in contanti, eh? Non c'è nessun problema, può pagare come preferisce. Certo, ormai non lo fa più nessuno perché otto macchine su dieci le vendiamo con questa formula. Conosce sempre nuova? Quelle formule tipo il noleggio, dove dentro c'è la manutenzione, le gomme... A conti fatti, è la formula più conveniente rispetto al pagamento in contanti. Guardi, signorina, io sono a posto così. Ho mio cugino che fa il meccanico e mi prende 70 euro tagliando. L'altro mio cugino, quello di mia moglie, fa il gommista e mi prende 70 euro per le gomme. L'una? No, tutte cinque, anche quella di scopo. Ah, fantastico. Quindi è fortunatissimo perché oltre ad avere delle persone di fiducia che la seguono, spende anche poco perché immagino che spenda poco. Non ho mai fatto i conti bene, però credo di sì, sì, sì. Certo, quindi comunque il prezzo le va bene? Sì, 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 il prezzo mi va benissimo. Vado a prendere il libretto della mia macchina? L'aspetto. Eccomi. Quanto ha detto che mi faceva? Mi sa che aveva ragione. Con sempre nuova hai inclusi manutenzioni, pneumatici, garanzia e assicurazione. Coditi la parte più bella della tua auto. Buonasera, ben ritrovati qui dalla Fratelli Cozzi, cari telespettatori, per una nuova puntata della vetrina dell'auto. Allora, qui accanto a me abbiamo una fantastica Citroën C5 Aircross, una Volkswagen T-Cross. Sono auto, come tante altre, che abbiamo qui in sede disponibili, pronte a consegna, pronte per voi, per partire per la vacanza estiva. Abbiamo una novità. Per la vacanza estiva, chi viene vedendo la trasmissione, dicendo che ha visto appunto la trasmissione della vetrina dell'auto di Fratelli Cozzi, della Rosi, avrà in omaggio il pieno di carburante. per partire in vacanza con Fratelli Cozzi, avete a scelta auto aziendali, permute, chilometri zero, un po' di tutto per tutti i gusti, con cambio automatico, cambio manuale, benzina, ibride, elettriche. Quindi, venite a trovarci, in particolare andate anche sul sito fratellicozzi.it dove potrete notare tutti i nostri annunci, visualizzare tutte le auto, fare una selezione delle auto anche per chilometraggio, i prezzi, così da iniziare a vedere quello che abbiamo disponibile perché di auto veramente ne abbiamo tantissime, tutte pronte a consegna e visionabili, con foto, dettagli, optional. Dopodiché, mandateci una mail o contattateci al telefono così potremo fissare un appuntamento e seguirvi nella vostra scelta dell'auto. In base all'autoscelta, appunto, avrete una offerta a voi riservata di scontistica, aderendo in particolare all'iniziativa sempre nuova, vi porteremo ad avere un risparmio da 2.000 fino a 4.000 euro in base ovviamente all'auto che ci richiederete. Vi invito appunto a contattarci, a venire a trovarci per scoprire la nostra promozione perché l'iniziativa sempre nuova ai fratelli Cozzi offre all'interno di un costo mensile fisso i servizi assicurativi come il furto e l'incendio, le manutenzioni, le pastiglie dei freni, le sessioni alla garanzia, il treno di gomme e tanti altri servizi da scoprire qui da fratelli Cozzi costruire il costo mensile che più preferite in base all'auto che ci richiederete per darvi un'auto da utilizzare tutti i giorni in piena tranquillità per poi dopo valutare di sostituirla, prendere un'altra vettura sempre da fratelli Cozzi perché come vedete abbiamo una vasta gamma di auto tutte a vostra disposizione. Vi aspettiamo numerosi. Ecco a voi un esempio di auto per la famiglia disponibile in pronta consegna per partire per il viaggio estivo. L'auto è disponibile qui da noi. vi ricordo dite che avete visto la macchina sulla trasmissione in tv e avrete in omaggio il pieno di carburante solo per voi riservato oltre alle varie scontistiche che andremo ad applicare aderendo all'iniziativa sempre nuova di fratelli Cozzi. Quest'auto ad esempio è una sette posti quindi auto spaziosa comoda funzionale e per tutti i giorni. Venite a trovarci perché abbiamo anche Renault Grand Scenic abbiamo Renault e Space abbiamo in arrivo dei Ford Galaxy quindi tante auto disponibili per voi per andare in vacanza per famiglie numerose anche Station Wagon che dire ce n'è per tutti i gusti per tutte le tasche resta solo voi venire a trovarci dare un'occhiata anche sul nostro sito e valutare tutte le auto a nostra disposizione. Continuiamo la nostra esposizione facendovi vedere che qui da fratelli Cozzi oltre alle auto per la famiglia spaziose sette posti abbiamo anche una vasta gamma di auto city car automobili per tutti i giorni come questa Peugeot Cabrio molto sfiziosa e ad esempio ovviamente trovate da noi anche i SUV quindi che dire vi rinnovo l'invito a controllare sul sito a chiamarci a visualizzare un po' tutte le auto che abbiamo a nostra disposizione e venire qui in sede in Viale Pietro Toselli al numero 46 lascio la parola alla mia collega Moira e buona serata. Buonasera a tutti da Moira siamo sempre qui nella nostra meravigliosa Fratelli Cozzi in Viale Pietro Toselli 46 cosa dirvi rispetto a quello che vi hanno già detto i miei colleghi insomma qui le vetture non si risparmiano abbiamo tutte le macchine che potete immaginare Jeep Fiat Alfa Romeo Audi BMW Mini tutto quello che volete qui in Fratelli Cozzi la troverete sicuramente ma soprattutto le troverete per andare in vacanza sereni perché le nostre macchine ragazzi sono in pronta consegna cioè noi in dieci giorni vi diamo la vostra macchina e potete partire per le vostre vacanze tranquilli e sicuri ma soprattutto per due motivi uno che le nostre macchine un pochettino delle nostre macchine provengono dal Mondarval dove vi abbiamo detto che avete 24 mesi di estensione di garanzia valida in tutta Europa quindi ovunque andrete in vacanza siete coperti tranquilli e sicuri due il nostro sempre nuova il nostro sempre nuova che è il nostro il nostro fiore all'occhiello fondamentalmente dove voi avrete la vostra vettura in un canone mensile con tutti i vostri servizi inclusi quindi avrete un piccolo canone rispetto alla macchina che sceglierete dove avete già dentro tagliandi gomme essenzioni di garanzia vettura sostitutiva più tutta la parte assicurativa legata alla macchina quindi furto incendio attivandallici sociopolitici cristalli grandine totale tutela legale morte infortuni conducenti insomma chi ne ha più ne metta con un piccolo canone tutto incluso voi non dovete preoccuparvi di niente se non venire qui e scegliere la vostra macchina poi io e i miei colleghi vi seguiremo per scegliere il canone più giusto per voi con l'anticipo che preferite vi ricordiamo inoltre che noi abbiamo oltre 300 macchine qui pronte per voi per farvi andare in vacanza sereni e tranquilli con tutti i servizi che la fratelli Cozzi può darvi come sempre poi Roberto Cozzi si supera perché quando abbiamo un capo brillante ce l'abbiamo insomma e noi vi daremo un pieno per tutti quelli che diranno di aver visto la nostra pubblicità appunto con la nostra meravigliosa Rosi quindi venite qui in Viale Pietro Toselli 46 a Legnano dite che ci avete visto in tv e Roberto Cozzi vi pagherà un pieno per andare in vacanza avendo così tante macchine non potevamo scegliere noi per voi quale selezionare quale indicare che prezzi darvi insomma vi invitiamo a andare oltre che a venire ovviamente in concessionaria qui fisicamente a guardare il nostro sito www.fratellicozzi.it li troverete tutte le macchine presenti fisicamente in azienda dove potrete scegliere allestimenti prezzi eccetera eccetera io vi faccio un caro saluto e vi invito a venire qui da noi in Fratelli Cozzi e vi faccio e vi faccio e vi faccio Grazie a tutti.